Ciao ragazze, come state? Spero bene, hanno un bravo allo piano perché non posso urlare, mia donna sta riposando. Dunque, un nuovo video che grigio. E questo video che grigio sarebbe pelaro voi. Dunque, insomma, ho messo il microfono, speriamo che si senta perché era questo video, però ci voglio provare. Nel frattempo sto guardando Giovanna Luisa, un youtuber, la sto guardando anche adesso se hanno sentito l'audio perché, sì, perché l'audio lo posso mettere. Saluto le piante di terre, ciao, un bacio. Le piante di terre sono solidi e niente. A tutte e a tutti. E che dire, aspettami un po' da questa parte, se riesco. Eccomi qua. Tutto il mio splendore. Già. Sì, adesso sono sfatta. Sono struccata e tutto quanto, ma chi se ne frega. Appena così, intanto chiedete di lacce. E qua. Già. E niente. Tanto, aspettami un secondo che voglio cambiare canale. E qua c'è qui. E nulla. Nel frattempo sto guardando un po' di televisione, anche venuta, ma la sto guardando. E... Io ce n'ho solo una linea che è uscita a fare due qualche passeggiatina, però in settimana forse, anzi settimana il tempo uscire per forza. Perché non si vuoi di venire bloccata in casa, non discerò per forza di cosa, in casa, in casa. Per andare a fare passeggiata, per quello che devo fare io, la commissione, via, discorrendo, però almeno esco di casa. Cioè? E niente. Aspetta un secondo che mi metto, che mi metto, il, se è troppo dove ho messo il mostro del selfie. Eccolo qua. E vi incastro su. Perché mi sta facendo male il braccio, ragazzi mie. Non potete capire il fastidio del braccio. Aspetta un secondo. Però no, non ho capito bene che mi dovevo mettere. Che mi dovevo mettere. La... Eccoci qua. E niente. In una maniera che non vi dico. Però non so come mettervi. Perciò, mi metto così. E niente, mi ho appena preso un caffè. Con questa panna, con i talli Euro Spin. Ed è buonissimo. Perché sennò così non ce la faccio. Veramente, è troppo... E mi fa bruciare il stomaco come se fosse acqua sporca. Invece è buono il caffè con la panna. Mmm, mmm, se è buono. Già. E niente. Mi vedete così. Però... E perché è caldo. Ma questa moglie non si direbbe. Anche perché sotto c'è la manica corta. Lo direte, è mai caldo? Sì. Infatti, con l'ha appena detto, c'è caldo. E niente. Che vi racconto? Vi racconto che... Ho fatto dei miei sogni. Non vi sto qua a dire che sogni ho fatto. Però sono bellissime. Che sogni ho fatto. E niente. Mi hanno guardato un po' di televisione. Anzi, più che televisione, mi hanno guardato... I vostri video. Quindi sono pure uccata. Perché non ho guardato tutti i vostri video. Non tutti, tutti. Qualcuni sì. Ma è attaccato il microfono? Sì, spero di sì. E niente. Bene. Ok, ragazzi. Io adesso stacco. E ci vediamo dopo. Eccoci qua. Sto guardando la televisione. Vedete? Che non fate credere. Sto guardando la televisione per l'appunto. E niente. Questa è la pubblicità per adesso. Qua c'è Giovanna Louison. Come potete ben vedere. E qua c'è il cibo che ho finito di mangiare. Ma me lo sono lasciato perché non ce la facevo più. Non c'è il caffè. Come potete ben vedere. E ci sono le mie gocce perché... per calmarmi. Qui c'è... la palla land. E vabbè. E tra poco devo lavare i piatti. Ok? A dopo.